Musica Cosa dire, parlano già le immagini, una cosa molto bella, un'iniziativa fantastica Tutto bellissimo, è la prima volta che vengo a queste sfilate, molto belle, io e mia nipote ci siamo divertite e ci divertiremo ancora tanto È stata una giornata stupenda, come sempre c'è da meravigliarsi con questo gruppo fantastico E ci siamo divertite tanto con una giornata splendida Come al solito una bellissima corte E vive il carnevale Savona, una bellissima sfilata oggi qua E' un orgoglio partecipare a questo carnevale Come potete ben vedere partecipano tutte le maschere del Nord Italia Quindi è un carnevale veramente molto molto bello Oggi qua con me, il mio gruppo, sono tantissimi che sono venuti a sfilare a Savona Vi ringrazio veramente dal mio profondo del cuore Abbiamo delle new entry E sono felicissima di questo Stiamo preparando Novara Sabato prossimo avremo la consegna delle chiavi E quindi cominciamo con il carnevale e cominciamo a portare un po' di allegria che ne abbiamo sempre bisogno Quindi bambini preparatevi perché partiamo sabato, vi aspettiamo tutti La partenza di sabato sarà alle 3 da Piazza Cavour per fare una bella festa tutti insieme Da Vercelli, il Bicciolano e la Bella Maina Sì oggi siamo qui a Savona, abbiamo portato un po' di vercellesità in questa terra di mare, è stato bellissimo Abbiamo assistito all'arrivo del Cicciolin, sono qui con la mia bella Maina E i prossimi impegni diciamo che nel proseguo del carnevale sono tantissimi Tanto per citarne una, andremo a Modena e se tutto andrà bene anche fuori dall'Italia Siamo felici di essere qui, è uno dei tanti impegni come diceva il Bicciolano Ma veramente con molto desiderio di partecipare, per cui siamo molto felici Grazie a tutti